Voglio solo ricordare che sui 170.000 arrivi dello scorso anno lo status di rifugiato politico è stato dato almeno del 10% dal Ministero dell'Interno. Se aggiungiamo la protezione sussidiaria arriviamo a un totale di quelli che hanno fatto domanda dei 63.000 che arriva al 30%. Cosa significa? Che non stiamo parlando di chi sta scappando da una guerra, perché quelli siamo i primi a dire che dobbiamo salvarli. Sono poco più di 9.000 allo scorso anno. Il problema è che stiamo parlando di 170.000 persone arrivate e che sono rimaste illegalmente o con la richiesta di asilo negata sul nostro territorio nazionale.